L'intelligenza artificiale è al fianco di circa 5.000 operatori, tra medici, infermieri e farmacisti. La ASL Bari informa in una nota che è la prima azienda sanitaria in Italia ad aver acquisito il sistema Clinical KIAI. Da ottobre 2024 è stata infatti avviata la fase di sperimentazione con la partecipazione di 30 medici. L'obiettivo è migliorare il processo di cura in ogni sua fase, dalla diagnosi alle decisioni da prendere. Il nuovo sistema di intelligenza artificiale applicato all'attività clinica è stato presentato dal direttore del Dipartimento Sicurezza e Qualità Vincenzo De Filippis e da Vittorio Sportelli di Clinical Solutions, alla presenza di Luigi Fruscio, direttore generale facente funzioni a ASL Bari e del direttore sanitario Luigi Rossi. Un passaggio importante ha chiarito Fruscio perché segna il momento in cui l'intelligenza artificiale viene messa a disposizione degli operatori sanitari, dagli ospedali al territorio, come strumento di ricerca e supporto di facile accesso che può aiutare i percorsi di cura. Lo strumento è progettato per supportare i clinici al punto di cura, riassumendo rapidamente informazioni complesse, offrendo la possibilità di domande di approfondimento e fornendo accesso diretto alle evidenze e risorse originali, anche con una forte impronta inclusiva data dalla possibilità di potersi adattare a pazienti di lingua straniera. Il sistema è in grado di combinare contenuti clinici affidabili basati sull'evidenza con una banca dati di oltre 2.300 fonti scientifiche a livello mondiale, aggiornate quotidianamente con la ricerca conversazionale supportata dall'intelligenza artificiale generativa in grado di dialogare con l'operatore in tempo reale.